buongiorno con grande piacere vi presento la visione la strategia e le offerte di eden of art sagl eden of art nasce con la visione di proporre il kit perfetto per l'artista che c'è in te questo significa mettere a disposizione gli strumenti necessari per concepire realizzare promuovere l'arte in tutte le sue forme al momento il focus verte sulla realizzazione di audiovisivi prevalentemente a favore della scena hip hop l'azienda focalizza la sua attenzione sui parolieri sugli scrittori sui produttori di basi rap e su tutti gli artisti in cerca di promozione ne consegue la seguente strategia accompagnamento di progetti dal concepimento fino alla realizzazione delle opere la messa a disposizione di singole parti necessarie alla produzione come tessuti sonori testi copioni e altri semi lavorati in qualità di garante del servizio eden of art promuove artisti con contratti di edizione e ora vi illustro in maniera molto semplice che tipo di offerte eden of art ha in serbo per il suo cliente partendo da un esempio che va a coprire tutti i servizi e prodotti trasmissione delle competenze per la realizzazione di un testo o corealizzazione secondo i principi del coaching accompagnamento atto a migliorare qualità del prodotto con il giusto supporto di coaching dalla revisione del testo fino alla performance live l'affiancamento rientra nel servizio sul quale il mandante può fare leva produzione di strumentali su misura a dipendenza della necessità realizzazione o acquisto di una base musicale registrazione del brano in studio professionale elaborazione di mix e master da parte di tecnici del suono qualificati e infine ottenimento di tracce audio di alta qualità stesura di un copione in base alla canzone realizzata che permetta di creare un videoclip riprese video per la realizzazione dell'opera e relativa post produzione definizione di un programma di pubblicazione e di promozione con possibilità di cessione di diritti o contratti di edizione riassumendo, Eden of Art S.A.G.L. ti fornisce tutto questo a diversi livelli per permettere a ognuno di vivere l'artista che c'è in lui immaginiamoci pertanto di essere un giovane artista che intende creare la sua prima opera audiovisiva sorretta da un videoclip strappa emozioni considerate che il ragazzo è alle prime armi e non sa come trasformare la sua idea in un progetto iTry è perfetto per un primo tentativo è ideale per tutti coloro che per la prima volta si trovano nel grande shop dell'arte degli audiovisivi dove un venditore è un consulente che ti porta verso un ottimo prodotto perfettamente confezionato iPlay, invece, consente un ottimo modellamento e un puntuale intervento sulla creazione anche da parte del cliente iSell è la soluzione che ogni negozio espone con orgoglio e che si traduce nel fionello chielo sulla scaffale più pregiato un prodotto pronto a conquistare il mercato in questo caso l'audiovisivo, oltre che essere di eccellente qualità e modellato senza limiti corrisponde a un vero programma di promozione in conclusione, indipendentemente se hai il desiderio di lanciarti nel tuo primo progetto artistico o se sei un artista esperto o senti il bisogno di penetrare il mercato ed è no fartai il kit per l'artista che c'è in te iTry, iPlay, iSell e anche se hai il nostro canale